I vertici dell'ECOWAS si riuniranno nuovamente in Ghana questo fine settimana per decidere le migliori opzioni per l'attivazione e il dispiegamento delle truppe per ripristinare l'ordine costituzionale in Niger. La decisione è stata presa giovedì e accompagnata dall'auspicio di una soluzione pacifica della crisi, ancora possibile. Francia e Stati Uniti sono tra i paesi che hanno espresso il loro sostegno all'ECOWAS. Che sia per paura o per consenso non c'è segno di resistenza nelle strade nigerine. Le sanzioni non stanno rendendo la vita facile ai cittadini ma coloro che sono disposti a parlare con i giornalisti sostengono la giunta. La comunità internazionale è preoccupata per la sorte del deposto presidente nigerino Mohamed Basoum, ostaggio dei golpisti con la sua famiglia dal 26 luglio scorso, quando il nuovo regime ha preso il potere. No, lo so è.